lancio storico lancio storico, Muni Maspes non so di quanto dopo di voi, dopo tutti aspetta eh ma tanto di controllo eh, e sto per ultimo 8 al trotto aspetta 8 al trotto ok ok, metti le mani qua tu già? si metti le mani qui andate belli guarda qui marco ok, ok dentro aspetta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.